Il governatore pugliese Michele Emiliano apre alla trattativa col presidente del consiglio Paolo Gentiloni sul piano ambientale dell'Ilva impugnato da regione e comune di Taranto purché si ottengano dal governo le garanzie di un'apertura al processo di decarbonizzazione e dell'applicazione della legge regionale sulla previsione del danno sanitario. Stiamo chiedendo al governo, ha detto Emiliano, di rispettare le leggi, la Costituzione e la salute dei cittadini. Se non li avremo, il ricorso non sarà mai ritirato. Riferendosi poi all'invio della proposta d'intesa agli enti locali da parte dei ministri Calende e dei Vincenti, Emiliano ha parlato di un passo avanti importante. Concordo con il sindaco di Taranto, ha proseguito Emiliano che lo strumento giuridico più adatto però alla definizione di questo storico accordo non possa che essere quello dell'accordo di programma. Noi speriamo di riuscire ad andare oltre le dichiarazioni di semplice disponibilità nell'atto che si firmerà, che rischia di essere un atto storico perché è la prima volta in cui la Regione e il Comune finalmente entrano nella governance di un fenomeno, quello dell'Ilva, dal quale gli enti locali sono stati esclusi prima per ragioni oggettive, diciamo così, e attualmente addirittura per legge. Quindi rientrare in un permanente tavolo di esame della condizione generale dell'Ilva sia dal punto di vista dell'occupazione, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista dell'indotto ma soprattutto della salute dei cittadini è di centrale importanza. Se si troverà l'accordo e soprattutto la garanzia della tutela della salute dei cittadini pugliesi e tarantini in primis e previo il consenso del Consiglio Comunale e Regionale, la Regione Puglia è pronta a una nuova proposta. E mia intenzione è anche proporre alla nuova proprietà dell'Ilva che una delle società di proprietà della Regione Puglia possa entrare nel capitale della nuova Ilva. Questa è una proposta che dimostra quanto noi teniamo all'Ilva ma quanto noi vogliamo stare dentro l'Ilva per fare in modo che essa serva non solo le ragioni dell'economia ma che tuteli anche la salute e i diritti dei cittadini e dei lavoratori.